Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida che richiede di raccogliere metallo all'idro 16. L'idro 16 è questa località qui, se non la conoscete. Praticamente venite qua e farmate metallo come gli animali, quindi con il vostro bel piccone colpite il tetto di questo edificio fino a quando non completerete la sfida.